Buongiorno Silvia Signorelli, direttore della Fondazione per lo Sport, bentornata. Grazie, buongiorno Susanna, buongiorno ai telespettatori. Ci sono alcune novità, la prima riguarda il Palabigi. Sì, finalmente dopo due proroghe sono arrivate, è arrivata una candidatura anche molto interessante, l'avrete probabilmente anche letto sui media, sui quotidiani, quindi è arrivata un'offerta di una cordata che in termini tecnico si chiama ATI, quindi associazioni di imprese. La capogruppo è una ASD, onde chiare, con CLAS, che era il vecchio storico gestore, e pallacanestro reggiana. Quindi hanno proposto, insomma, un progetto tecnico di riqualificazione, di ammodernamento, con delle migliorie molto interessanti, sia per raggiungere efficientamenti energetici, ma anche per modificare qualche parte stilistica, ecco, anche dell'arredamento e delle attrezzature. Quindi, insomma, è andata a buon fine. E per chi frequenta il Palabigi? Allora, innanzitutto, ci sarà comunque una stabilità di gestione e questo già comporta una maggior resa, anche qualitativa, della gestione ordinaria di tutte le attività dell'impianto, perché l'offerta, alla fine, comunque, rispetto al valore che hanno deciso di investire, che ha deciso di investire questa cordata, arriverà fino a marzo 2029. Quindi, comunque, anche rispetto alle gare che si facevano in precedenza, è comunque un investimento che porta a una durata abbastanza lunga. Ringrazio, comunque, il precedente gestore, G-Sport, il signor Bertocchi, perché, comunque, riprendere in mano un impianto che era stato fermo per due anni dopo le ristrutturazioni, dopo il Covid, comunque ha comportato sforzi da parte di tutti. Cosa vuol dire anche per gli sportivi appassionati? Sicuramente, sicuramente, si migliorerà assolutamente la parte dell'impianto audio, questo anche grazie, comunque, a una parte di investimenti che farà anche Fondazione, e verranno modificati tutti i seggiolini, famose poltrone autorità vintage, perché, comunque, verranno ammodernate. Ovviamente, tutti gli interventi tanti senza chiudere la struttura, che rimane sempre operativa. Sì, 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 infatti, uno dei punti, proprio, punteggi che hanno preso nel progetto è stato proprio il garantire sempre l'efficienza e l'apertura dell'impianto durante tutta la stagione sportiva. Cambieranno tutti i LED nella parte della semia interrata, perché, comunque, ricordo che la palestra, quella giù, è usata dalle scuole, quindi anche questo comporterà un miglioramento visivo e un efficientamento energetico. Ci saranno sezionamenti di riscaldamento e dell'ariazione, perché spesso, insomma, anche i tifosi segnalano, soprattutto nelle parti alte, che è molto caldo. E poi, appunto, migliorie anche stilistiche a livello di arredo e di grafiche. È già operativo, quindi questo accordo? Sì, sì, allora, noi abbiamo fatto l'aggiudicazione, cominciano dal primo di ottobre, quindi ci sarà la formale consegna delle chiavi dal primo di ottobre. In questo mese e mezzo ci ha aiutato nella gestione, c'è stata un po' una scialuppa di salvataggio Claudio Sarti, che era lo storico custode del Bigi per un mese. Sì, sì, infatti, un trait d'union comunque è stato. Per mantenere la continuità e un passaggio di consegne. Sì. Tra le novità che riguardano tutto il mondo sportivo, tra l'altro ne parleremo diffusamente anche giovedì, nel nostro spazio di approfondimento, ne avevamo accennato anche nelle puntate scorse, c'è il riconoscimento dell'attività sportiva nella nostra Costituzione. È stato novellato l'articolo 33. Questo poi cosa vuol dire? Ah, per noi intanto è stata infatti una giornata storica. Innanzitutto la Camera l'ha approvato con 312 voti su 312, quindi l'unanimità assoluta che in un contesto nazionale governativo come quello attuale è una situazione abbastanza anomala. Questo vuol dire che tutta la parte di governo era assolutamente compatta nel capire e comprendere l'importanza di far emergere l'attività sportiva funzionale al benessere. Infatti l'articolo 33 novellato a questo punto cita proprio che la Repubblica riconosce l'importanza dell'attività sportiva quale apportatrice di benessere psicofisico e sociale ed educativo. Quindi lo sport finalmente entra nella Costituzione italiana, tra l'altro durante proprio l'anniversario, il 75esimo anno delle entrate in vigore della Carta. Quindi insomma per tutti gli addetti ai lavori della parte sportiva è veramente un ottimo traguardo. Questo vorrà dire però innanzitutto cercare come utenti e cittadini di promuovere come benessere non solo fisico ma anche psichico l'attività sportiva fin da bambini ma anche proseguendo nell'attività adulta perché comunque è dimostrato che fare attività sportiva crea e produce benessere anche fisico e mentale ma anche vorrà dire per la parte delle istituzioni e per istituzioni non intendo solo quelle centrali ma anche quelle locali investire sull'impiantistica. Come ho già detto altre volte non solo l'impiantistica al chiuso ma magari anche all'aperto perché comunque il Covid ci ha insegnato che è importante anche fare attività fisica nei parchi, nei campi però ovviamente gestiti e strutturati quindi con delle attrezzature ad hoc e quindi anche il Comune e anche la provincia stanno investendo su questo ma anche investire sull'impiantistica sia sulla manutenzione che su nuove costruzioni. Il PNRR in questo ci ha dato una mano il Comune di Reggio insieme a noi siamo riusciti ad ottenere il finanziamento per due riqualificazioni importanti una è sulla scuola media Osta dove verrà assolutamente riqualificata non solo la struttura scolastica ma anche la palestra e il Mirabello. Quindi la cosa da un lato negativa è che rispetto alla mole di investimenti che si spera di riuscire a portare a casa a livello nazionale col PNRR solo lo 0,4% verrà destinato allo sport quindi c'è ancora tanto da fare, questo è un primo passo. Ho visto che l'accennava, una ultima domanda gliela voglio fare proprio su questi investimenti da PNRR, queste risorse da PNRR di quanto si tratta e quali sono poi i tempi lei ha parlato della Osta e anche di un altro intervento. Sì, allora il Mirabello e poi c'è la cittadella di Masone ecco questa probabilmente sarà l'ultima come ITER perché in questa siamo il comune ancora in una fase di analisi della progettazione. La Osta assolutamente il prossimo anno cominceranno già a concludersi entro quest'anno le progettazioni, il prossimo anno la realizzazione anche in questo caso assolutamente ci sarà soluzione di continuità quindi non ci saranno problemi sull'attività sia scolastica che sportiva, insieme ai progettisti sono state già valutate delle ipotesi temporanee soprattutto per la parte impiantistica sportiva per garantire sempre la furibilità ovviamente la scuola viene in primis lì non avranno mai problemi. Il Mirabello tra l'altro si incastra con la nuova gara che ormai stiamo quasi chiudendo quindi magari su questo sarà oggetto di un altro appuntamento e anche il Mirabello dovrà comunque concludersi entro marzo 2024 quindi in tutti i modi se non marzo Sono fondi significativi? Sì per quello un milione e mezzo quindi sicuramente verranno rifatte tutte le torri faro rifacimento del Mirabello assolutamente tutti in modo efficiente quindi saranno tutti i fari a led e con una riduzione e abbattimento dei costi notevoli per il gestore e verranno riqualificate anche alcune parti comuni alcune zone spogliatoio Quindi tante buone notizie che riguardano gli impianti sportivi Grazie per essere stata con noi grazie per tutti questi aggiornamenti sulla situazione e riguarda gli impianti sportivi della nostra città Continuando